È una situazione esplosiva quella che si sta registrando negli uffici speciali della ricostruzione dell'Aquila e del Cratere. I contratti di dipendenti assunti con il cosiddetto concorsino sono in scadenza e potrebbero, o meglio dovrebbero, essere rinnovati ai primi del prossimo mese di maggio. Ma ciò che chiedono gli enti è di arrivare ad una proroga almeno triennale, così da poter programmare con serenità il lavoro. Ciò che preoccupa in più invece sono i 15 dipendenti a tempo indeterminato che hanno chiesto il trasferimento ad altra sede. A fare il punto è l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Piero Di Stefano. Con la legge di stabilità la continuazione di uffici speciali è stata già acquisita, quindi da parte della legge, del governo e del Parlamento gli uffici speciali vanno avanti. Poi c'è l'aspetto pratico che è quello della copertura economica e per questo sono nate queste discussioni di un rinnovo di un anno pari alla copertura effettiva. Si potrebbe fare di più se il CIP estanziasse subito i fondi e ci portasse la copertura giuridica e economica a tre anni in modo che ci sarebbe più continuità. Credo che l'aspetto peggiore è quello del personale invece da via. Attualmente l'USRA ha 15 persone in meno su 50 di quelle che ha in dotazione, che vengono dalla legge 134. Ne ha 15 di meno perché sono vincitori di altri concorsi e quindi ovviamente sono andati... Come si potrà avviare a questa carenza? Ecco questo è il punto. Come si potrà avviare? Si dovrebbe avviare con il rimpiazzo da parte del RIPAM. Ma sappiamo che questo non avviene, avviene lungo e quindi io ho sollecitato molto l'ufficio speciale a rompere ogni indugio o il RIPAM ce li dà o ce li danno altri uffici, li danno l'ufficio polpice oppure si rivolgessero a delle agenzie, a qualcuno perché noi non possiamo attendere le lungaggi di altri che si decidano a mandare personale. Giuridicamente è possibile farlo, quindi lo si fa, punto e basta, dobbiamo guardare alle pratiche che vanno avanti, non possiamo sempre guardarci la punta delle scarpe pensando di non farci cadere un grammo di polvere mentre vediamo che la città soffre. Ecco io sono molto più deciso con questo e non temo alcun confronto.